Controlli dei carabinieri della Compagnia di Ischia e dei militari della stazione forestale di Casamicciola sull'isolotto di Vivara a Procida. Un servizio a largo raggio quello dei militari, finalizzato alla tutela della biodiversità e delle aree protette. Un servizio svolto su due fronti. La motovedetta dei carabinieri di Ischia ha monitorato il mare, mentre i loro colleghi forestali hanno pattugliato l'isolotto. 15 le sanzioni amministrative elevate, per un totale di 4.500 euro. Ancoraggio in area protetta senza autorizzazione, eccesso di velocità sotto costa e ancoraggio ad una distanza inferiore di 100 metri dalla costa, queste le contestazioni. 21 le imbarcazioni controllate e 36 persone identificate.